La sigaretta 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siccome io sono una persona che oggi purtroppo il denaro, cioè l'euro, bisogna tenerlo bello stretto. Io me ne vai a Mondella a Spiaggia Libera. Mamma mia. E che scelta? Che se me ne vai chi ti ha attrezzato? E poi... Ti racconto che cosa mi è successo a me in Spiaggia Libera l'anno scorso a Mondella. Mi trovavo sdraiato e mi prende per sole. Perché onestamente il sole e baci i più belli. Oh, non ti è mancata adesso. Allora, mi trovavo là in Spiaggia, lo sai, se ne vedono di cotte e di crue. Si vedevo comprare quel che vende i pollanchier, quel che vende il tuo cocco. Insomma, se ne vedono di cotte e di crue. Allora, mi è successo che io mentre stavo, ero sdraiato, vedevo una persona con la pancia di fuoco, sa, a Mondella, si... Eh, si, palermitare. Eh, qui ci fossero palermitare. Eh, qui ci fossero palermitare. Eh, qui ci fossero palermitare. No, no, no. E allora mi trovo con là e ho visto una scena. Ho visto una scena che c'era una persona che si mangiava una teglia, cioè una teglia, e poi c'è lo fuori, no? Di passaforno. Ecco. E allora tutto insieme, la chiesa, ma lo sai, 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 ce ne scena il cane dove c'era la sua vecchiava, insomma, tutto insomma, ci fanno un tono sera e ci fa, eh, amico, amico, dice, ah, due giorni che non mangio, adesso quando è palermitare, dice, ma tu vai da affare o bagno? Ma poverine, dai!